Venerdì sera Interchannel apre le porte di casa sua, torna a Prima Serata, momento unico di confronto tra gli abbonati e il mondo Inter. Questa settimana in studio sarà Diego Milito a rispondere alle vostre domande. Scrivetegli a interchannelchiocciolainter.it o all'account Twitter o inviate un SMS al numero che vedete in sovraimpressione. In più, novità della stagione potrete lasciare allo stesso numero i vostri messaggi vocali. Prima Serata, la vera casa dell'Inter, è sul canale 232 di Sky. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare e per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 100 500. Prova Interchannel e poi scegli. Sky, liberi di...